E' iniziata ieri pomeriggio la fase pubblica e partecipata che porterà all'assemblaggio delle osservazioni utili per arrivare al preliminare del piano urbanistico comunale a Nocera Inferiore. La città mette mano alle previsioni di sviluppo. Lo fa analizzando quanto ancora resta della sua originaria vocazione agricola, come è cambiata la sua identità facendola diventare centro di servizi, intorno a quali emergenze di carattere monumentale e di verde pubblico concentrare eventuali ambizioni di rilancio. Per la caserma a Tofano si fa strada l'ipotesi di battere la pista del comodato d'uso tra le altre cose. Nocera è una città che ha una sua polifunzionalità, è una città molto concentrata, densamente abitata, con una pluralità di servizi che si sono stratificati, alcuni molto importanti e serie di insediamenti di servizi come quelli del Tribunale, dell'ospedale, vari comandi delle forze dell'ordine, servizi di vario genere di carattere pubblico. Mantiene ancora una prevalenza delle attività produttive, di piccola o media produttività, nonché della produttività agricola. Mantiene delle emergenze, nel senso che emergono dal territorio, non come emergenza, importanti sia di carattere monumentale sia di carattere diverso. Abbiamo anche ancora un suolo agricolo che cerchiamo di preservare. Si tratta di focalizzare nelle previsioni di sviluppo di piano lo sviluppo della città nel tentativo di tutelare il più possibile i suoli non compromessi, cioè quelli che non sono ancora cementificati, quindi di sottrarli a questa progressiva erosione edilizia che si è verificata soprattutto negli ultimi 15-20 anni e di favorire il più possibile interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente. La caserma Tofano, la parte centrale del piazzale, sicuramente che è amplissima, può avere una destinazione di parco urbano. Alcune delle parti della struttura edilizia, io penso, possono essere anche quelle, in modo mirato e conservativo, della struttura architettonica, anche avere parziale, e sottolino parziale, destinazione a carattere abitativo per mantenerne una vivibilità e quindi un'automanutenzione. Non solo quello, perché non è che possiamo fare le case dentro la caserma in modo indiscriminato, ma poi c'è da vedere quali siano i soggetti potenzialmente realisticamente interessati ad interventi di investimento su una struttura come quella e con quale destinazione. Grazie a tutti.